Il Comune di Padova domani con delibere di giunta comunale chiederà l'acquisizione al demanio della Prandina. Vediamo quando dopo c'è una proposta economica da parte del Comune di Padova come si comporterà il demanio e la Prefettura. Continua il botta e risposta tra il Sindaco di Padova e Patrizia Impresa. La fer Prandina acquisce le tensioni tra Palazzo Moroni e la Prefettura. Bitonci ritiene al centro d'accoglienza dei profughi un impedimento al suo progetto di un grande parcheggio. Il prefetto dal canto suo ha definito la scelta della Prandina quasi obbligatoria, costretta a suo dire dall'indisponibilità a collaborare dell'amministrazione. Oggi la nuova replica del Sindaco che annuncia una formale proposta di acquisizione dell'area dove dall'estate scorsa è installato un centro che ospita attualmente un centinaio di profughi. Il Sindaco di Padova non metterà mai a disposizione della Prefettura dei beni comunali, delle scuole. Le scuole ci vanno i bambini e non i profughi clandestini. Non metterà mai a disposizione palestre, non metterà mai a disposizione luoghi pubblici. Il prefetto su questo deve arrangiarsi. Il prefetto ha sbagliato a scegliere la Prandina. Qui doveva nascere il più grande parcheggio per il centro di Padova, sostiene Bitonci, che in campagna elettorale nei punti del suo programma aveva inserito proprio il progetto del Megapark. In ballo c'era anche un accordo chiuso con i vigili del fuoco per una triangolazione con la loro caserna. I vigili del fuoco pagano 800.000 euro all'anno dell'affitto della caserma dei vigili del fuoco. L'operazione che volevano fare assieme al Comune di Padova sarebbe stato un grande risparmio anche per loro e anche per questo governo.